Mobilità, trasporti, infrastrutture a sostegno, tutto collegato per muovere l'economia, sostenere lo sviluppo ed incentivare turismo ed occupazione. Un processo che necessita di risorse, ma soprattutto di un cambio di mentalità sia nella classe dirigente che nei cittadini. Con un dibattito dedicato ai trasporti e al turismo, la CGL ha aperto a Capodorlando la due giorni conclusiva della festa organizzata anche a Messina e Milazzo. C'è molto da lavorare, iniziando dalla cura del territorio. Prima di tutto bisogna riaggiornare tutto quello che è il piano di assetto idrogeologico. Vanno messi in sicurezza tutti quei luoghi che attualmente subiscono forti pressioni, sia il carattere antropico ma anche il carattere ambientale. Su queste linee poi si deve rimettere in condizioni del territorio di diventare valente dal punto di vista delle vocazioni turistiche che vanno diversificate, passando da un riordino urbanistico e poi successivamente in qualità architettonica. Va rivisto un po' tutto quello che è il sistema dei trasporti con un piano che porti efficienza ma porti anche razionalizzazione delle risorse. Perché se è vero come è vero che da un lato non ci sono più risorse adeguate per poter garantire tutto ciò che ad oggi ci siamo permessi, è pure vero che, fra virgolette, c'è stato anche un cattivo utilizzo per certi versi di quelle che sono le risorse del settore. La CGL ha voluto che la piazza tornasse ad essere a Gorà, luogo di incontro e di confronto sui problemi della politica e dell'attualità, problemi che oggi si chiamano lavoro. Piazze del lavoro è il titolo che abbiamo dato quest'anno a questa manifestazione proprio perché volevamo stare in giro. Le piazze sono i luoghi dove i lavoratori manifestano ma sono anche i luoghi dove le persone si incontrano, si incontrano e discutono e parlano. Riportare il lavoro al centro, anche quest'area ha tra i suoi temi la questione del lavoro che ovviamente va declinata rispetto alle questioni, il turismo, l'assetto idrogeologico, i trasporti e la mobilità, le infrastrutture, ma anche sviluppare nuovi settori. Il turismo che non è un'industria ma tante piccole attività scollegate tra di loro, pure d'eccellenza ma scollegate tra di loro. Provare a fare sistema fa la differenza tra continuare a declinare oppure potere quando ripartirà agganciare la ripresa.